Negli ultimi 5 anni l'ente camerale di Teramo ha destinato direttamente alle imprese femminili risorse per 733.000 euro. Le imprese rosa rappresentano una componente fondamentale del sistema economico teramano, considerando che sono 8.940 le imprese femminili registrate. L'evento di oggi vuole affrontare i temi della leadership nella conduzione delle imprese femminili, oltre che fornire indicazioni su come cercare, inventare e trovare lavoro. Le donne imprenditrici devono unirsi e fare rete, ma in realtà non solo le donne imprenditrici, tutte le donne che intendono avere un ruolo incisivo in questa società. Questa è una mission, fino a, dicevo poco fa, le ragazze delle scuole superiori che hanno partecipato a questo incontro, fino a qualche tempo fa, inserire le donne nel mondo del lavoro era considerata quasi una missione benefica. Oggi si è capito che le donne sono una risorsa e le avventure finanziarie che hanno caratterizzato il nostro secolo hanno sottolineato come la capacità di cura femminile, che si esplica anche nelle modalità di gestione della finanza e dell'impresa, è fondamentale a fianco della capacità di rischio e all'aggressività maschile. Ma negli ultimi due anni la crisi ha colpito anche l'imprenditoria femminile. Nel corso dell'ultimo biennio, infatti, si sono perse circa mille imprese rosa. La Camera di Commercio ha investito, la Camera di Commercio di Teramo, per sostenere la nascita di nuove iniziative con le donne protagoniste. Ritengo che in un momento in cui bisogna inventare qualcosa di nuovo, perché le difficoltà generalizzate dell'economia e quindi della nostra società ci invitano a fare cose nuove. Noi sappiamo che le donne sono in grado di svolgere un ruolo e quindi devono essere utilizzate, devono essere recuperate a una funzione importante. D'altro canto, senza voler adulare le donne, senza voler dire cose belle, siamo fermamente convinti e riscontriamo nei fatti di ogni giorno che le donne hanno una particolare determinazione nel raggiungere i risultati.